Allora bambini, avete costruito e completato i vostri teatrini? Qualche foto? Abbiamo scoperto che uno dei nostri personaggi visiterà quindi un posto lontano. Andrà in Inghilterra, tutti i giartoni. Ma non vi svelo ancora i personaggi. Prima completeremo gli sfondi della scenetta e coloreremo i paesaggi che il nostro personaggio visiterà nel corso del suo viaggio. Un bel prato verde e montagne innevate. Chissà cosa sogna di fare. Una caverna. Una caverna, guardate, a cosa servirà? Poi, poi, un cielo azzurro, limpido, con un bellissimo arcobaleno e un paesaggio, per finire, mozzafiato, visto dall'alto. Sono quattro scenette e dopo queste cosa farà il nostro amichetto? Quali posti scoprirà? Colorate le quattro scenette e ritagliatele, attaccatele in sequenza. Uno, due, tre e quattro. In sequenza dobbiamo ritagliarle, prendendo però le misure. Vi ricordate? Abbiamo fatto dei taglietti qui dietro la scatola. Uno e due. Perché queste belle scenette dovranno essere infilate proprio qui. Vedete? Guardate. Come abbiamo fatto col teatrino di Pesco. Vedete? Ecco qua. Perché andranno infilate qui dentro per scorrere meglio. Ok? In questo modo. Settate. E la tiro fuori. Ecco qua. Così possono scorrere. Vedete? Ecco qua. In questo modo. Ok? Ora io aspetto qualche foto. E quando sarete pronti vi svelerò finalmente i nostri, i nostri personaggi. Ok? Al lavoro! Ciao bimbi! Ciao bimbi! Ciao bimbi! Grazie a tutti.